L'agricoltura la stiamo dimenticando, gli operai agricoli sono l'ultima parte di tutto il mondo dei lavoratori. Soprattutto a livello economico per noi, perché il contratto agricolo è l'ultimo dei contratti, è quello dove la paga oraria è la più bassa di tutti in Italia. Gli operai agricoli e florovivaisti sono così scesi in piazza, un presidio di fronte alla prefettura di Arezzo per sollecitare il rinnovo del contratto territoriale. Stiamo rinnovando in tutta Italia tutti i contratti provinciali, in questo caso nello specifico della provincia di Arezzo, le trattative non stanno andando a parer nostro dignitosamente come dovrebbero essere. Noi abbiamo presentato con la CGL insieme alla CISL e alla UIL una piattaforma a parer nostro molto ben strutturata con tante cose che chiediamo non solo a livello economico, anche a livello di vita, ma le trattative ci stanno respingendo quasi tutto quello che abbiamo chiesto fino ad arrivare alla parte economica che è una delle cose in tutti i contratti che preme di più e non è assolutamente in linea con tutto il mondo che è adesso e specie con il mondo agricolo e quindi chiediamo ascolto, chiediamo di far sentire la voce degli agricoltori e di dargli il minimo veramente per la dignità e quello che gli spetta. Da qui la richiesta di un intervento anche da parte del prefetto. Se non vengono accolti le nostre richieste cosa si rischia? Si rischia che il mondo agricolo, gli operai del mondo agricolo scompariranno, cioè la forza, la mano d'opera va a sparire perché non viene riconosciuta, non viene dato il giusto merito a queste persone che lavorano nella terra e questo è fondamentale per noi, essere riconosciuti di quello che facciamo tutti i giorni perché noi facciamo sì che l'Italia vada avanti.